I più stretti collaboratori di Don Livio Buso ammettono che il parroco del Duomo è distrutto. Al momento è introvabile, non solo, crediamo, per i molti impegni. Quello che aveva da dire sulle accuse di violenza sessuale, commessa 30 anni fa al seminario di Treviso, rivoltagli da Gian Bruno Cecchin, lo ha detto direttamente ai suoi parrocchiani durante la messa domenicale. Pur con un grande dolore dentro, sono sereno vi assicuro in coscienza e di fronte a Dio, che quanto dichiarato è privo di fondamento. Il sacerdote ha concluso che presenterà una denuncia per calunni e diffamazione. A San Martino sembra davvero unanime la stima nei suoi confronti e nessuno crede alle accuse. Come già ho avuto modo di dire a Don Livio, siano infondate, come già lui stesso ha detto, abbiamo rinnovato la nostra stima nei suoi confronti, il nostro pieno appoggio. Mi sembra una brava persona, sta facendo parecchio per il paese. Mi sembra impossibile e aspettiamo il risultato della magistratura. Io penso che Don Livio sia una persona assolutamente affidabile, una persona responsabile. Non credo assolutamente che queste accuse siano fondate. Da quello che io vedo come persona mi sembra un buon parroco, una buona persona. Io non credo, per la persona, per quel poco che lo conosco, mi sembra una cosa infondata. Conoscendo Don Livio mi sembra veramente difficile che come persona possa agire nascondendo un segreto così pesante. Ecco, tutto là.